Il sogno play-off dell'Ancona si ferma a Sant'Arcangelo, nello spazio, di 11 metri, quelli che consentono a Nardi di ipnotizzare Tulli dal dischetto, episodio a sfavore dei Dorici, quei Romagnoli che dall'inferno salgono nel limbo con una testata di Bisoli nel secondo tempo. In estrema sintesi è tutto ciò che succede al Valentino Mazzola, la squadra di Cuttone deve tirarsi fuori dai play-out, 4-3-1-2 coperto e ripartenze. Di là la banda di Cornacchini vuole stupire, chiedendo in bellezza una settimana da Dio con i successi su San Marino e Tutto Cuoio. Il capo del Pisa e il pari della Reggiana ad Ascoli hanno illuso che questa potesse essere la volta buona per avvicinare il terzo posto. E invece i Dorici hanno mancato un'altra occasione. Partono meglio degli avversari, prendendo in mano le redini del match. Bondi da trequartista non trova l'idea giusta e la difesa giallo-blu disarma Tulli e Paponi. Falconieri invece trova la porta al 28esimo, punizione velenosa sventata in angolo da Lori. Al 34esimo ancora vicino al vantaggio, il signore Sassoli fischia un rigore ai biancorossi per fallo di Traorè su Bondi. Calcia Tulli, Manardi intuisce e respinge mantenendo i suoi in partita. Alla fine del primo tempo altra palla gol per i Dorici, Parodi per Tulli, centro per Paponi che viene anticipato sul più bello da Cola. L'intervallo giova di più al Sant'Arcangelo che sprinta fin da inizio ripresa. Al terzo Falconieri per Bisoli, Lori coi piedi mette una pezza. Al quarto d'ora però viene premiato il miglior avvio dei padroni di casa. Punizione di Togordo e spunta Bisoli sul secondo palo, Tapina che si insacca alle spalle di Lori. Lo svantaggio fusca le strategie dell'Ancona che inizia a buttare palloni in avanti con poco costrutto. Al ventesimo punizione di Lisai dal limite che Nardi blocca in due tempi. Contropiede del Sant'Arcangelo e al ventottesimo De Respinis colpisce il palo. Il nove di casa protagonista anche al 34esimo. Di nuovo Lori a chiudergli lo specchio. Un minuto dopo la squadra di Cuttone rimane in dieci con Falconieri espulso per doppia munizione. Nessun vantaggio per l'Ancona però, con Genni in girata sfiora il palo al quarantesimo. Incornata di Paponi al primo di recupero, per Nardi nessun problema. Al quarantottesimo percussione di Rossi che trova solo l'esterno della rete chiuso in uscita da Lori. Dopo sette risultati utili consecutivi si interrompe la striscia dell'Ancona. Applausi comunque nonostante il brusco risveglio dal sogno.